Protesta stamattina dei genitori del circolo didattico Nazario Sauro di Catania. Mamma e papà che lamentano la continua presenza dei topi e dicono a nulla sono valsi gli interventi di derattizzazione finora eseguiti. Abbiamo questa situazione da 10-15 giorni. Abbiamo chiesto alla preside in anteprimis di fare le richieste, cioè aveva detto che a giugno aveva fatto la richiesta al comune, era stata fatta derattizzazione e disinfestazione. Poi martedì scorso abbiamo chiamato noi genitori il comune, sono venuti e non esisteva nessuna richiesta. Hanno fatto martedì e mercoledì derattizzazione e disinfestazione ma quelli del comune ci hanno detto che se non ovviamente all'apice sistemavano i buchi e le situazioni della scuola tecniche non avrebbero concluso niente. Infatti venerdì facciamo rientrare i bambini e trovano la scuola piena di topi. Nei corridoi i bambini si trovavano insieme ai topi. Allorché dico che in questo momento la preside è con le rappresentanti di classe dove esce una dichiarazione da una rappresentante di classe che dice che la preside afferma che i topi non sono un pericolo per i bambini e che il pericolo fondamentale è solo nel caso in cui il tetto cadrebbe. Quindi ditemi voi, lo Stato pretende l'ASL da noi vaccini ai bambini che hanno problemi come i miei figli e vengono ricoverati per un vaccino protetto e ci multano però possono vivere e convivere con i topi. Intanto la dirigente Francesca Condorelli spiega ai nostri microfoni che si sta facendo tutto il possibile per risolvere la questione. La derattizzazione è stata fatta già settimana scorsa, il servizio ecologia del comune di Catania ha prontamente posto il farmaco per i topi e due giorni la scuola è stata chiusa perché dopo la derattizzazione è importante fare anche la disinfezione. La pulizia è stata fatta perché abbiamo una squadra valida, è stata fatta anche il personale scolastico, il personale ATA ha pulito ogni residuo e in questo modo abbiamo potuto aprire venerdì la scuola. Promesse che non tranquillizzano i genitori, pronti a non fare entrare i figli a scuola neanche domani se i topi non spariranno dall'istituto.